Un brillantissimo Caimacana che Tony Spower ripiega Mamma Gervasi che si mette dietro. Plea ha fatto partenza per andare davanti con L. Sponto in corda, Rosier di fuori subito dopo, nelle prime posizioni Kingsports e Tony Spower, questi primi, poi allo steccato c'era anche Bueno Xavier e Shad, Disappir Ardara, India Spirit non si va forte, Plea ha in vantaggio su Kingsports che precede sempre Rosier e Arcudi, poi si sistemano questi a tiro dei primi, L. Sponto e Trovaioli e poi anche la mossa di Ardara che è settima e di India Spirit. Plea ha in vantaggio all'attacco della letta di fronte su Kingsports che si mette secondo, terzo in corda a Rosier che precede Arcuri, buona la cadenza che impone Plea davanti a Kingsports, Rosier, India Spirit e Arcuri, Tony Spower, Ardara e L. Sponto, questi primi otto, poi Bueno Xavier che precede tutti gli altri con all'interno subito dopo. Plea ha in vantaggio su Kingsports e Rosier, in quarta posizione Arcuri e India Spirit e L. Sponto, Tony Spower e Ardara subito dopo Bueno Xavier. Plea che prova la fuga da Kingsports, da Rosier, Arcuri e L. Sponto, India Spirit, Tony Spower e Ardara quando si entra in dirittura. Stesso schema. Plea ha in fuga da Kingsports, Rosier, Arcuri e L. Sponto, India Spirit, Tony Spower, Trovaioli e Ardara. Kingsports muove su Plea, poi Rosier, L. Sponto, Arcuri, poi India Spirit, prova il recupero ma lontano Ardara con Rosier in vantaggio, Arcuri che ci prova, l'interno Kingsports, poi L. Sponto, poi India Spirit, poi Disappir, poi Ardara. Nel finale Rosier in vantaggio su Arcuri e Disappir che si ingamba però il palo è vicino. Rosier difesa con successo. Da Arcuri e Disappir, Alberto Sanna per Scipione Martini, la vittoria di Rosier che rintuzza Arcuri, 13-11, terzo con molte ricriminazioni, Disappir. 13-11-2, l'idea di arrivo che deve essere confermata, il primo piano di Alberto Sanna, ben, ben, bella interpretazione. Arcuri ci ha approvato ma probabilmente rispito, Nelson Disappir, quello che virtualmente, ma solo virtualmente va alla cassa. Poi Kingsports è Ardara in un tardivo finale. Enrico, a te la linea. Sì, Sandro, siamo pronti per accogliere il probabile vincitore.